E allora buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, mille like, mille like facili per questo video, vi invito ad iscrivervi anche perché domani concluderemo la due giorni di storytelling con il video su Simi, vi invito a vedere quello su Vlaovic di quest'oggi, poi parlerò di Allegri alla Juventus, del ritorno di Allegri alla Juve e la sera immancabilmente. Ci guardiamo la Roma in Europa League, ma commentiamo questo interessante, questo roboante Paris Saint-Germain-Manchester City. Ma devo dire che sono piuttosto d'accordo con la telecronaca di Adani, nel senso che si è vista una partita nella quale le due squadre si sono divise i due tempi, il primo tempo molto meglio il Paris Saint-Germain, Manchester City assente, tornato, spariziero, veramente non presente in campo il Manchester City, non facilitato anche dalla scelta di Guardiola di giocare senza praticamente attaccanti, secondo tempo viceversa Paris Saint-Germain che non riscende in campo, Paris Saint-Germain che forse ha peccato di presunzione, forse ha considerato l'avversario prematuramente non in serata, ma smette di giocare, fa un secondo tempo veramente tornato anche egli e il Manchester City emerge con convinzione, con coraggio, con forza, con gioco. E io devo dire la verità, io credo che nel bene e nel male il Manchester City sia Guardiola, nel senso che ora tutti mi feccheranno, tutti mi diranno ma no ti sbagli, ma cosa dici? Io leggo il Manchester City e non vedo sto gran squadrone, cioè io leggo la formazione del Manchester City, anche quella di stasera non è che resto storto, cioè Marez, Gundogan, Stones, Walker, cioè non è una squadra, non è un collettivo di fenomeni, non è una squadra a mio avviso fatta di stelle, ci sono certo degli ottimi giocatori, c'è De Bruyne, c'è Cancelo, per carità ha degli ottimi giocatori, anche il Manchester City vi prego di ragionare parametrando la competizione, ecco, se lo parametro la competizione non è una rosa che mi manda invisibilio, non è una rosa di fuoriclasse, è proprio a mio avviso che è anche lo stesso Zinchenko, così, è proprio che emerge Guardiola, cioè emergono le idee di Guardiola, emerge il plus valore, capito, che Pep Guardiola, che Pep De Zerbiola dà ai suoi giocatori, attraverso il gioco, attraverso le idee, attraverso anche questo possesso palla prolungato e quando le cose vengono fatte bene, estremamente veloce, estremamente rapido, difficile da leggere, però non è, non è capito, non è una squadra che va avanti per i fuoriclasse, per le giocate del singolo, magari ci sono anche quelle, per carità, ma è una squadra che va avanti e che si sostanzio nel grande gioco, nella mentalità, nel plus valore che il suo allenatore gli dà e qui bisogna sicuramente fare i complimenti a Guardiola perché si vede la sua mano, si vede nel bene e si vede nel male perché io penso paradossalmente che giocando con un centro avanti non avresti rinunciato alle cose belle viste oggi perché non sarebbero venute meno, non avresti rinunciato a quelle, nel primo tempo probabilmente avresti sofferto un po' di meno e nel secondo tempo soprattutto dall'espulsione del Paris Saint-Germain in poi avresti magari capitalizzato di più, avresti potuto fare anche tre gol nel posto di solo due. Detto questo è un risultato difficile da ribaltare nel senso che il Paris Saint-Germain può anche farli due gol a Manchester però non penso che il Manchester stia a guardare, penso che anche il Manchester sarà segnero a Manchester e quindi è un risultato spinoso per il Paris Saint-Germain, diciamo che questa gara qui è meno aperta rispetto all'altra semifinale la cui andata si è giocata ieri. Credo che il Manchester City abbia messo una buona ipoteca sulla finale. Credo che il Manchester City abbia messo una buona ipoteca sulla finale. Nel Paris Saint-Germain devo dire che sì, i due italiani, soprattutto Florenzi perché Verratti non è che abbia fatto questo partitone però i due italiani hanno giocato discretamente bene. Quest'oggi ha deluso sicuramente la difesa eccettuato Marchinhos ma anche diversi interpreti a centrocampo e soprattutto Mbappé. Poi c'è da dire che nel secondo tempo hanno deluso tutti perché nel secondo tempo veramente faccio fatica trovare un giocatore da salvare nel Paris Saint-Germain. Però diciamo che Mbappé quest'oggi era un assente piuttosto ingiustificato dal campo. Non sono d'accordo nel crocifiggio da Bacher, a mio avviso ha fatto una partita normale certo non è che sia Di Maria, non è che sia Messi però voglio dire non è che il Paris Saint-Germain ha perso per Bacher ha perso per la mentalità con cui è rientrato in campo e per un errore sulla barriera e per degli errori di organizzazione tra difesa e portiere in occasione del gol di De Bruy. Ma veramente è stata una partita nella quale ha fatto più danno il Paris Saint-Germain non rientrando in campo nel secondo di quanti danni abbia fatto il Manchester City non entrando nel primo. Possiamo sottolinearla così e nella quale pur apprezzando il Paris Saint-Germain del primo tempo perché ho visto una squadra comunque organizzata, una squadra con un'idea di gioco penso che Guardiola come allenatore valga diverse spanne in più di pocettino che non è male però ecco io penso che Guardiola sia al di là dello storytelling, al di là magari delle esagerazioni le cose che vengono fatte, la gente che lo dipinge come un santone però bisogna dire che Guardiola che Pep De Zerbiola diciamo è un allenatore che ne sa, che inventa, che teorizza e mette in pratica e il bello di questa squadra qui del City è il fatto che è un po' una sua accademia, è una sua accademia vi ripeto non è una squadra di fenomeni, non è una squadra di gente fortissima, non è un dream team capito? A mio avviso io non vedo un dream team, vedo anzi tanta gente che ha un valore eccessivo di mercato per esempio leggo Transformers, leggo di quei valori sui giocatori del City che a mio avviso sono piuttosto altini non è quello secondo me, è proprio, è un po' un stile, è un'Atalanta di lusso diciamo no? un'Atalanta di lusso dove al posto dell'intensità che c'è magari a Bergamo che ci dà Gasperini gli allenamenti, via dicendo, c'è la qualità, c'è la visione di gioco, c'è un gioco arioso, spumeggiante diciamo efficace, bello da vedere, questo ecco io vedo, vedo questo e vedo questo grande plus valore dato dall'allenatore, quindi se devo scegliere veramente un migliore in campo quest'oggi al netto comunque di scelte discutibili tipo quella del giocare senza attaccanti sicuramente Pep Guardiola, detto Pep De Zerbione allora andiamo con i voti, Navas dal 5 al 6 perché il primo gol secondo me è responsabilità sua poi fa delle belle parate però dal 5 al 6 Florenzi voto 6 più Marchinhos voto 6 più, Kimpembe 5 e mezzo Bacher dal 5 al 6 Gueye voto 4, no scusa, caspita cosa stavo dicendo, non si può dire 5 scusate, è tutto a posto ragazzi, è tutto a posto, state tranquilli non l'ho detto fino in fondo, ho detto 5 Paredes voto 5 e mezzo Verratti voto dal 5 al 6 Di Maria voto 6 meno Mbappé voto 5 e mezzo Neymar voto 6 Danilo Pereira voto 6 Anderera voto 6 dopo i voti dell'allenatore li do la fine Ederson voto 6 Walker voto 6 più Stones voto 6 Ruben Diaz 6 Cancelo 6 più Bernardo Silva 6 più Rodri 6 più Gundogan 6 e mezzo Marez 6 e mezzo De Bruyne dal 6 al 7 Foden 6 e mezzo Zinchenko 6 più Voto agli allenatori Pocettino Dal 5 al 6 perché in spogliatoio secondo me bisognava caricare Bisognava tenere Bisognava che Io credo che il Paris Saint Germain in spogliatoio abbia un po' sbocciato Nel senso che hanno visto il mangio hanno detto ma si è la classica squadra di Guardiola Che poi in Champions fallisce Stiamo vincendo Possiamo fare altri C'è stato un calo di tensione Secondo me c'è stato un po' un calo di tensione E gli imputo soprattutto questo Perché poi le scelte non sono state negative Perché anche Keanu Alla fine è questo E questo il Paris Saint Germain Non gli imputo certo alcune scelte Io gli do dal 5 al 6 soprattutto per l'ingiustificabile calo che c'è stato tra primo e secondo tempo Guardiola voglio dargli dal 6 al 7 Perché vi ripeto io penso che Il bello Il plus valore La forza di questo City non è nei giocatori Non è in fuoriclasse Presunti fuoriclasse ma È tutto Pep Guardiola È tutto Pep Guardiola E sono convinto che la sua mano sia Un'alta percentuale in questa squadra Nel bene e nel male Questa sera va detto nel bene perché il risultato è importante Un caro saluto e iscrivetevi a domani